ciao amici eccomi di nuovo sto preparando i 10 led bicolore che sono rosso e verde hanno il polo comune poi polo di sinistra lo fa rendere rosso il polo di destra lo fa diventare verde a seconda di come alimenti ci sono resistenze per far funzionare con la 12 volt di led lì c'è il deviatore che sarà in modo che a un click saranno rossi e l'altro click saranno verdi al centro tutti i spenti filo e guania termorestringente ecco amici sto facendo una prova a banco con l'alimentatore da 12 volt ok non si legge va bene non fa niente ora questo qui è il deviatore che comanda il led un click luce verde un click dall'altro lato luce rossa quindi abbiamo verificato che la posizione centrale funziona ripetiamo verde rosso missione compiuta qui adesso la prova due led uno è rosso e uno è verde uno è verde e uno è rosso ragazzi sono emozionatissimo ho messo il pannello funziona tutto ci va pure benissimo lì nella pandarella mitica vedete è davvero una panna non è una ferrari guardate interruttorino generale accende tutto interruttorino a destra mi accende le lucette nell'abitacolo mitico adesso dobbiamo montare solo le lucette su questo deviatore e la marmitta a dopo cambia 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 mi dico